I game più strani sono quelli che si vingono Fidatevi Fidatevi Se perdiamo anche questo Cambio account E questo qua lo accantoniamo di nuovo Cosa pensi di Overwatch gioco morto? Mi fa veramente cacare Davvero Calighe Pensa che non era nemmeno voluto questo Che tristezza buttare gli account Non è che sono buttati Però cioè onestamente Cioè Sono arrivato anche con palle esplosive Gold 4 E mi sono ritrovato con il 70% A fare più 16 meno 20 Ora ditemi onestamente cosa dovrei fare Con quell'account Ditemi se ha senso giocare su un account Che a gold 4 Mi prende più 16 meno 20 Questo qua Per fortuna Almeno Nel lungo periodo Come stiamo appunto vedendo Almeno questo account qui Nonostante Sia un po' finito in un limbo di merda Fa più 20 meno 17 Quindi anche già prendere Anche già fare una win una lose E prendere essere in positivo di 3 punti È già qualcosa Ecco è comunque meglio Di essere negativo di 4 Gli abbiamo pure dato il gold reset ragazzi Gli abbiamo pure dato il gold reset È accettabile È accettabile È accettabile È accettabile Come se esti morto Ignite Mi ha bruciato Con la sua summoner cheating Grazie Hator Lobos Ok Che sono i cheers Sono una moneta virtuale Della live Si può dire Una moneta virtuale Della live Sono i cheers Questo game è la vita È stato veramente bello Poi è andato tutto a puttane Cioè Ma il fatto che anche Cioè anche gli altri Stavano vincendo Quindi Cioè l'unico che stava messo Con le pezze al culo Era set Perché Gli ho rifatto Il game tutto il tempo Gli ho rubato qualsiasi cosa Jesus non ne ho uno preferito Comunque queste sole rune Per chi gli interessasse Mettete in pausa Fate lo screen Perché vi pare Presence of mind È straforte come runa Veramente veramente forte Adesso non puoi collaborare Ma meglio Perché il game di primo Che ci stava Fatto ridere Però basta Perché Meglio giocare un po' di Come fresh No lemon È che Attenzio Lì Qui Oh 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 Ha resistito Di poco Mica Attenzione Massa 75% Un po' tanto È proggie Oddio Ma hai vinto Come ho fatto Con quella merda Di ponte Situazione Di altri giocatori Addio Addio Non sto capendo Qualcuno Qualcuno mi aiuti Lo so che più lunga la corda è più costa Però questo è Ci sto per credere Minchia Di a rk No Direi proprio di no Direi alquanto di no Allora Hai rotto tutto Eh ma è difficile Decro Grazie mille Dei 1500 Non mi viene in mente Altro onestamente Anche perché non abbiamo Altri materiali Quindi Per forza Dobbiamo fare i triangolini Ci arrivo qua Oh sì Ok Abbastanza budget 24.000 Sì 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 Di budget Ne abbiamo Easy Specialmente lunga la strada Però non so se poi regge Questo è Questo è un altro discorso Di 29 dollari Vabbè ma easy ragazzi Easy Dai Questa è stata facile Ok la Ok la tensione Che fa schermo Ma è stato easy Al primo colpo Minchia Davvero 8.000 di Vabbè Tipo una roba del genere No Una rampa Non una striscia Ma è No non c'è nulla Per farlo rimanere fermo Non penso neanche sia una questione di strada A sto punto Quasi È qua che si ero Perché qua non c'è nulla che lo tiene Quindi Appena arriva lì si spacca qui Giustamente Vedete a prescindere Dalla scorsa settimana Lo pago Per ogni volta Che viene a fare le reaction Con me Perché mi sembra giusto Retribuire Questa persona La sua presenza Questo sforzo Eh sì Eh minchia Vedo proprio le goccine di sudore Mauro è sulla tua front Eh sì Tutte le volte Che vieni qua Lo paghi 2 euro Per favore 2.69 Eh Dobbiamo essere precisi Ok Il 20 maggio Ho chiamato Il parrucchiere Ho chiesto Mettimi Il primo posto disponibile Il primo posto disponibile È lunedì primo giugno Quindi dopo domani Mi taglierò i capelli Non è colpa me Se ci vogliono due settimane Ma è il copiato Finale da Stepney Ah ok Quindi Stepney ha Al tubi continuato uguale Così Va bene Purtroppo non seguo Quindi boh Non seguo Però se lo dico Se lo dici tutta la chat Mauro sarà vero Guarda 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 Guarda